E ancora una volta siamo qui per una serata conviviale, una serata di gala e abbiamo invitato tutte quelle attività commerciali che hanno permesso di realizzare questo piccolo miracolo di grande successo che non era più scontato, che era la festa del pane e la pasta che quest'anno ha avuto veramente, diciamo, grandi elogi, grandi apprezzamenti di tutta la comunità e tutti i turisti che sono stati presenti a Borgata Costiera. Guardate, nessuno ci pensava, dopo quattro anni siamo riusciti veramente a riportare alla luce una Borgata che è stata dimenticata. Ringrazio semplicemente tutte quelle attività, ringrazio il patrocinio dell'Assemblea regionale ma soprattutto dall'assessorato regionale Mimmo Turano che ha permesso di realizzare veramente questa importante manifestazione con la promozione dell'arte, della cultura e della nostra enogastronomia. Io parto dal presupposto che da solo non si va da nessuna parte e queste persone questa sera qui presenti hanno dimostrato veramente con amore quanto vogliono bene a questo territorio. Ma la Sala del Valle è una città meravigliosa e meravigliosa perché c'è gente che è pronta a mettersi in discussione e a donare. Con la cultura del dono siamo riusciti veramente a riportare alla luce quella festa del pane e della pasta che si è portata alle ceneri. Ci siamo riusciti con il cuore. Naturalmente questo per noi non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza e devo ringraziare voi di TeleBS che avete documentato tutta questa manifestazione. Ringrazio la TLS che hanno gestito egregiamente tutta la parte tecnica della festa del pane e della pasta con veramente a livello, il palcoscenico è stato un palcoscenico delle grandi occasioni e in merito è stato proprio loro. Ringrazio l'Unione Nazionale Carabinieri che senza questo mondo del volontariato la festa del pane e della pasta non ebbe nessun'anima. Ringrazio Alessandra Lama, il direttore artistico che ha fatto un eccellente lavoro nella scelta degli artisti. Devo ringraziare chi ha gestito tutto il mondo della cultura, quindi la consuenza della cultura dalla professoressa Paola Barranca all'avvocato Gaspare Morello all'Iana Ingenito che ha gestito gli allestimenti e a Gerry Bianco che ha coadiuvato vendite artisti che hanno arredato e decorato Borgata Cossiera. Hanno realizzato dei meravigliosi opri d'arte, dei murales veramente importanti che hanno fatto parlare, hanno fatto discutere anche con la critica ma ci siamo riusciti, abbiamo riportato alla luce l'arte che è l'anima della loro cultura e devo dire grazie, grazie alla città ma non solo alla città di Mazzara del Vallo, grazie a tutte quelle attività commerciali che arrivano dall'Emilia Romagna alla famiglia Chiusa alla famiglia Naldoni, a Piero Asaro, Poiatti, Gallo e non me ne voglio la famiglia Giaconia, non me ne voglio nessuno dico che sia stato veramente un piccolo miracolo e grazie a loro siamo riusciti veramente nell'intento di promuovere la città attraverso un evento che era stato dimenticato noi ci siamo, stiamo lavorando in maniera importante anche per la festa del pane e la pasta Christmas Edition abbiamo già presentato il progetto alla Regione Sicilia e speriamo che venga accolto come questo è stato accolto detto questo non ci fermiamo tra pochi giorni chiuderemo l'estate della riunione nazionale carabiniere di cui mi freggio che ne faccio parte e ringrazio il Presidente Vito Lagna il Vice Presidente Vito Ciccio Marino e tutti i componenti di questa brillante associazione che veramente mette il cuore per questa collettività saremo domenica a Tre Fontane per chiudere un'estate da incorniciare e invitiamo tutta la popolazione a partecipare con una serata semplicemente meravigliosa anzi no, meravigliosa con arte, cultura e tanta comicità con un evento tutto da vivere, ridere e raccontare vi voglio bene naturalmente non finisce qui il nostro obiettivo è quello sicuramente di unirci per progetti importanti la festa del pane e la pasta è un evento da cui ripartire ma semplicemente meraviglioso è un evento da vivere fino in fondo grazie e buona serata a tutti grazie grazie